Il riscatto da parte dell'Epicasa Brindisi dopo la sconfitta nella semifinale del trofeo dalla Riva Sport Floor a Cavallino Treporti arriva nella finale per il terzo e quarto posto, un antipasto europeo per la formazione di coach Fabio Corbani che batte Varese con il punteggio di 105 a 97 in capo ad una sfida che è stata in equilibrio per i primi due quarti poi nel terzo quarto è arrivato lo strappo da parte della formazione Brindisina soprattutto grazie ai canestri di Wendell Mitchell e di Jamel Morris quest'ultimo miglior realizzatore con 20 punti complessivi ma in doppia cifra ci sono andati anche Nat Lazewski con 17 punti 16 punti di Mitchell, i 15 di Johnson e i 14 di Baillet dall'altra parte Varese ha risposto soprattutto con i canestri del capitano il canadese Alan autore di 21 punti complessivi e i 20 punti di Davide Moretti in attacco ha funzionato molto meglio la parte di costruzione per l'Epicasa in difesa c'è ancora da limare qualcosa ma i segnali di crescita ci sono tutti anche in vista del primo appuntamento ufficiale a fine mese con il girone di qualificazione per la FIBA Champions League in Turchia intanto la prossima settimana ci sarà il trofeo Pentasuglia ai nostri microfoni l'analisi del match nelle parole di coach Fabio Corbani attacco molto bene abbiamo avuto quattro processi consecutivi nel finale in cui potevamo anche far canestro ma onestamente abbiamo pastecciato abbiamo un po' forzato e siamo andati fuori da quello che è stato è stato il nostro ritmo da quello che i ragazzi hanno prodotto oggi in campo con molto ordine e molta attenzione ero molto contento nel primo quarto lo sono stato nel secondo e lo sono stato ancora nel terzo abbiamo avuto un momento in cui abbiamo rallentato e ci siamo un po' preoccupati perché non riuscivamo a tenere il nostro ritmo ma anche in quel momento di rallentamento dei set offensivi abbiamo comunque eseguito con un discreto ordine e con un discreto spacing